Dallù, vieni altro un attimo, c'è da fare un buco nel muro, mi ha chiamato Masci C'è da che? Per metterlo in quadro elettrico Butta il muro? Ma hai da fare il muro? La rocca? Eh, ho fatto il buro, l'ho detto, che problema c'è? Capito, ma non c'è la casa campagna Femme il buro, tanto se l'ho detto va bene Va bene Dio, guarda che cazzo io trovo qua dentro Ivan, Ivan, vieni altro, vieni altro Guarda, io trovo questi affari ma qua Dio, cosa è lì? Adesso... Immagino se c'è un tesoro Magari una lira. La prendo? Che c***o. Ma che roba? I fogli di carta dentro. Ma che roba è? Botta via tu. Basta. Botta via anche questa. Oddio che male, che male sto malissimo. Zalu, dove ti metti a fare carta? È male tra mezza, chi ma d'or? Bene, che voglio bene se ci metti. Do. Fai vedere prosti fai. Eccolo. Vivo alla Rocca. Zalu! Da un'altra pezza di carta con questa roba, mi so che è importante. Buonasera. Ultime dal calcio mercato. Muraglia già in mano messi. Aspetta, passiamo alla notizia vera. Hanno trovato dei documenti di Leonardo da Vinci alla Rocca. Sembra che Leonardo da Vinci abbia trovato ispirazione per i suoi quadri proprio qui a Pesaro. Abbiamo già un servizio. Buonasera, ci troviamo nel centro studio di Leonardo con i serviziati dottor Lemco e dottor Sambì. Con dei documenti trovati a Pesaro. Cosa ci potete dire a riguardo? Sì, questa è una bottiglia semplice. La bottiglia è fatta da un disino di Leonardo. Sì, ancora dobbiamo capire perché, però è una bottiglia a tutti gli effetti. Sembra un girarrosto, però una bottiglia girarrosto, forse, è creata da Leonardo. Può essere. Ah, cazzo, sì, c'è un girarrosto qua dietro. Sì, sì, sì. E che li abbiamo presi adesso questi documenti e non li abbiamo fatti in tempo a esaminarli. E l'altro foglio di cosa parla? Ah, questo foglio, a prima vista, sembra un quadrato. Anche da questo lato. Eh... Però vediamo un rombo. Sì, anche un rombo, sì. Eh, non è che io la roba, non è che la piazzina è una roba di peso, per caso, no? Dice? Da qua, sì, adesso. Adesso faccio un po' il geometra io. Sì. Prova? Ah, guarda. Sì, ci assomiglia, sì, un po'. È vero un pochino? C'è scritto? Rocca. Ah, c'è la raffa... Sì, c'è scritto Rocca di peso, sì. Ah, è importante, è importante. L'altro foglio di cosa parla? Lo poco? Cos'è? Lo poco in movimento, cos'è? Qua c'è scritto... Io non vedo niente. Sì, c'è scritto... Del palio. Dalla corsa che ha fatto Dano Vilara alla Rocca. Sì, vedi bene questa riga qui? Sì. Sì, sì, parla... Dice anche dei bracieri. Il palio dei bracieri, sì. Cosa si vince un par de palle? Lo si fa per la scienza! Siete pronti? Sì. Mi raccomando, perché la scienza è la scienza! Oh, ma cosa fa quello? Via! È proprio in pattacca. Vivo! Ho visto il Duca, tutto il carro e il cavallo di Mon. Che stalloni! Ciao Donzelle, sapete chi sono io? Che chi sei? Leonardo! Chi? Da Vinci! Da Do? Da Vinci! Voi come vi chiamate? Io Lisa. Che petto di monna! E te come ti chiami? Io sono la dama, la dama con l'ermellino. Oh, fammi vedere l'ermellino! Tieni, prendi l'ermellino! Andiamo, venite che vi faccio vedere una roba! E dove vai? Te vai dove ti pare! Oh, anche a me sono stato tanto bene! Ma di un po', è per la scienza anche quello? Tutto è scienza! Va, 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 va! Dai, si bella fuori! Ferma, ferma, ferma! Devi affermare questi due vincere, non ce ne posso più! Legali! Vivo la vincere! Avete visto che ci ha preso in questi giorni? Chi? L'amato! Chi? Da Vinci! Da Do? Da Vinci! Si! Ma, un grande vettore! Oh, che bella cena! Artista! Posso parlare di Vettore? Chi siete? Leonardo Da Vinci! Leonardo? Questa è la Rocca? Si! Allora sono arrivato! Allora, passiamo! Allora, passiamo! Allora, passiamo! E' un grande vettore! Perché pensi che non c'era Pesio! Invece che è arrivato! Sono arrivato! E' un grande vettore! Si! A Leonardo! Grande artista! Grande autore! Grande artista! Oh! Oh! Fermi tutti! Ma c'è? Oh! Come sempre, mancano sempre 30 scudi! Per me! E' sempre lo Giuda! Ma ne so eh! Dovevi dire che è l'ultima cena! Azione! Sì! E' bello! Pfff! Pfff! Eccola! Iniziamo a vedere! Come si può vedere! E' un quadrato! E' un aspetto! Nooo! Qua si è aspetto! Lo guarda! Si! 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 Può assomigliare! Può assomigliare! Può assomigliare! Ma che cazzo io troverò! Io trovo qua! Ivan! 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 Ven'altra! Ven'altra! Ah! C'è questo! In me dice! In me dice! E-M-M! Stop! Vai! E' bella cena! Asi che vuoi dimmi te! Ma... La... 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 La...